amici di sconton è sempre l'ora del caffè l'ora del caffè è un graziosissimo bar vicino le cliniche ospedaliere in via del vespe troverete la cortesia e la qualità ma soprattutto la bontà dei suoi caffè dei suoi cappuccini delle sue brioche dei suoi cornet tante gustosissime offerte dunque su sconton punto it offerte che possono andare da un carnet di caffè a un carnet di cappuccini ma soprattutto potete ordinare delle buonissime briochione farcite rivolgetevi a francesco il simpatico e gentile proprietario e affidate a lui l'inizio della vostra giornata e allora buon caffè a tutti da sconton